Buonasera, è l'intervista tradizionale di fine d'anno con il presidente Giuliano Amato. Giuliano Amato, è inutile che lo ripeta, ormai mare in mano da decenni, residente nel comune di Orbetello, personaggio di spicco della nostra politica, della politica, sì, personaggio di spicco da molto tempo, un punto di riferimento della politica da quando era forse, non lo so, diversa rispetto a quella di oggi, con un feeling maggiore forse anche con la comunità, non voglio dire con gli elettori. Presidente Amato, allora, intanto come sta andando? Lei è sempre oberato di impegni, qualcosa mi sembra scaduto, come presidente della Corte Costituzionale, sono passati nove anni, i famosi, quelli che sono una regola, è ritornato un po' più padrone della sua vita, anche come persona normale? Padrone ho l'impressione di no, sono finiti i mandati pubblici e alla mia età dire sono finiti vuol dire sono finiti perché con l'anno che comincia ora io passo a 85 e a 85 è già molto se siamo vivi, alcuni anni fa sarebbe stato assai più difficile e se il sensorio è vigile, se Dio vuole il sensorio è ancora vigile. Quindi certo, ora lo uso anche per fare cose che in questi anni non ho avuto tempo di fare, devo dire tuttavia che le persone che hanno il curriculum che ho io, che hanno fatto tante cose, ex questo, ex quest'altro, pensi che in base alle regole io ho diritto a due funerali di Stato, lascerò scritto nelle mie disposizioni che non ne voglio neanche una perché secondo me il funerale di Stato è giusto per il carabiniere che ha salvato la vita di qualcuno e allora ci muore, allora lo Stato lo riconosce, ma l'ex Presidente del Consiglio che come tale ha diritto al funerale di Stato, l'ex Presidente della Corte Costituzionale che come tale ha diritto al funerale di Stato, quindi a me due, no? Allora neanche uno, dico però quando uno ha un curriculum come questo viene cercato intanto per presentare il suo libro di qualcun altro, che ci sono io nel panel, no? E quindi poi per fare l'exio magistralis su tutto ovunque devo filtrare tutto questo e quindi organizzare la mia vita finché campo facendo quello che vale la pena un po' di fare. D'altronde deve pensare che non può sottrarsi a questo per quello che lei rappresenta. No, ma io non intendo sottrarmi perché fra l'altro sono tra gli antichi cultori dei libri se le nuove generazioni continueranno a volerli e discutere dei libri è importante, fa scoprire problemi, fa scoprire soluzioni di problemi, quindi sono cose che faccio volentieri insomma, no? Però se uno scrive un libro sul gomito della lavandaia e mi chiede di presentarlo io dico di no perché non che sottovaluti il tema, ma diciamo non ne so nulla. Certo, certo. Senta Presidente, vorrei iniziare questa intervista dopo questa simpaticissima introduzione che dimostra ancora una volta come la sua ironia lo abbia sempre aiutato e come veramente l'appellativo che fu dato di Dottor Sottile rimane anche oggi naturalmente e lei lo giustifica con i due funerali di Stato ai quali ha fatto questo riferimento. Ecco proprio ora. Senta Presidente, prendiamo la larga. 2023. Ma andiamo a incontro a che tipo di anno? Che cosa ci proporrà questo anno? La politica, ci sono tante novità e ci sono tante cose confermate che dimostrano come ancora deve ritrovare un feeling con l'elettorato. Ci sono problemi, la pandemia, vede bene che siamo tutti come se fosse tutto passato invece chissà, forse potrebbe anche ricominciare. L'esempio della Cina è un esempio incredibile ma anche da noi c'è chi dice mascherine sì, mascherine no, no smart working, smart working sì. insomma voglio dire siamo problemi dell'energia a cui vanno quelli che sono i problemi che il mondo imprenditoriale ma non solo ha e quindi ho visto stamattina che nel sud per esempio leggendo un giornale ci sono più pensionati che non persone che lavorano eccetera e quindi le pensioni sono superiori agli stipendi. Dove stiamo andando? Che prospettive abbiamo? Lei può veramente dirci qualcosa in proposito? Sa che posso dire raramente abbiamo vissuto e io più di lei ne abbiamo vissute tante insomma tantissime direi. Però raramente abbiamo vissuto situazioni di incertezze così importanti per la nostra vita così diversificate che investono tanto la vita quotidiana di ciascuno di noi quanto quella del paese quanto quella dell'Europa quanto quella del mondo davanti al cambiamento climatico. Se facciamo la somma di tutte queste incertezze devo dire che chi ci governa tutti noi esseri umani in Italia come in Bangladesh ha davanti dei problemi davvero difficili da risolvere e non sempre si dimostra sintonizzato con l'entità di questi problemi. Per dire noi quando avevamo detto siamo usciti dalla pandemia poi ci siamo accorti che è difficile uscire dalla pandemia. Se ora però attrezziamo la sanità in modo che se ricapita noi non ci faremo trovare impreparati. Noi oggi abbiamo meno medici e meno infermieri di quelli che avevamo quando dicevamo che ci siamo trovati impreparati. Qui c'è un lavoro di lunga lena che non è forse neanche cominciato. Noi abbiamo davanti il cambiamento climatico ma oh ragazzi noi siamo qui tra i 15 e i 20 gradi guardiamo le mappe che ci fanno vedere in televisione c'è questo anticiclone africano che entra in Italia e sale su su per l'Europa come faceva quest'estate. Si continua, ormai non lo ferma più nessuno e quindi noi viaggiamo verso i 40-50 gradi d'estate e i 20 gradi d'inverno. Certo si risparmia il gas ma ha senso un mondo così che contemporaneamente porta i 30-40 sotto zero negli Stati Uniti. Come fronteggiamo tutto questo? Per dire ci sono delle isole oggi popolate per le quali si stanno preparando dei muraglioni per proteggerle il più possibile dall'innalzamento dei mari che è la conseguenza dei ghiacciai che si sciolano. E c'è un'altra cosa che riguarda l'economia, l'inflazione, i prezzi che derivano dal fatto che l'economia del mondo non è più quella che era 5-6 anni fa, era il mercato globale. Ora il mercato si sta deglobalizzando e ciascuno cerca di produrre per sé quello che gli potrà servire perché poi in un domani quando gli serve non lo trova più. Se lei oggi si compra un'automobile la fanno aspettare mesi e mesi perché i microchips, che oggi tutti sappiamo cosa sono, li fanno in certe parti del mondo e da noi non arrivano, allora dobbiamo farceli da soli. Cioè manca il fiato a pensare a tutti questi cambiamenti. In più, come accennava lei, l'Italia continua quello che si chiama l'inverno demografico, che vuol dire che noi, eccoci qua, belli arzilli non ci leviamo di torno. I bambini che nascono sono molto meno di quanti erano prima, per cui è ovvio che a lungo andare ci sono più pensionati che dipendenti. E chi le paga le pensioni dei pensionati che superano il numero dei dipendenti col passare degli anni. Ecco, insomma, diciamoci buon anno, però buon anno ha bisogno di tanta buona volontà e di tanta consapevolezza. In un momento come questo, come si spiega, o forse è un momento come questo che spiega lo scoppio di una guerra. Parlo dell'Ucraina, ma sono decine i focolai e le guerre in corso sul pianeta. Ma come si spiega che con tanti problemi che abbiamo, con una collaborazione, una condivisione di questi problemi che dovrebbe essere scontata e invece ognuno pensi all'orticello suo, perché ogni parte può essere grande quanto vuole, ma è l'orticello. E ognuno pensi che può essere homo homini lupus, può essere lupus all'uomo. E qui ci mettono anche la paura, non abbiamo soltanto i problemi di tasca o di salute, abbiamo anche i problemi di prospettive, perché qui basta pigiare un bottone, uno s'alza la mattina, l'atomica ce l'hanno quasi tutti ormai e diventa problematico. Come si può uscire da una situazione del genere e ricreare un'intelligenza globale che porti naturalmente perlomeno a non avere questo tipo di preoccupazione? Lei so che sta lavorando, lei è presidente di tanti comitati scientifici, ma so che sta lavorando anche a questo. Sa, lei ha perfettamente ragione perché il mondo delle incertezze è di per sé un mondo che da un lato avrebbe bisogno del massimo di cooperazione per uscirne, basta pensare appunto al cambiamento climatico, eccoci qua, siamo tutti qua sullo stesso pianeta, chiunque faccia una cosa, se è giusta ne traggono beneficio tutti, se è sbagliata danneggia tutti quanti, ma da una parte all'altra del pianeta. Quindi da un lato bisogno di cooperazione, dall'altro le stesse incertezze portano in realtà a chiudersi e a guardare gli altri come nemici. Uno dei fenomeni che hanno colpito di più e che viene imputato al cosiddetto populismo è che i movimenti politici che così vengono chiamati molto spesso hanno piuttosto un collante fatto di dargli addosso a lui perché è lui il nemico, quindi contro piuttosto che per. Il contro piuttosto che per in un mondo popolato da social dove chiunque esprime il peggio che ha dentro genera odio. Questo è esattamente l'opposto di quello di cui abbiamo bisogno, come fare ad evitarlo. Tutto questo va prevenuto possibilmente evitando che si arrivi alle situazioni di rottura. Io sono tra quelli che pensano che il comportamento della Russia di Putin sia un comportamento ignobile, ingiustificabile, inammissibile, ma come fai a dire che vai a liberare un paese dai nazisti che lo governano se tutti i giorni bombardi i civili, uccidi i civili, i tuoi soldati stuprano le ragazze che incontrano, ma che i liberatori sono. Quindi è una cosa inaudita fuori dalla grazia di Dio. Ma se io porto indietro l'orologio e chiedo a me stesso, abbiamo fatto abbastanza per evitare che nella Russia delle teste così contorte o contorcibili si determinasse quel sentimento di chiusura, di ostilità verso gli altri, di credibilità del cosa che il mondo ce l'ha con noi, eccetera. No, non abbiamo fatto abbastanza. In realtà abbiamo ignorato che questa cosa stava crescendo e quando sarebbe stato possibile prevenirla ed evitarla noi non abbiamo fatto nulla. Abbiamo pensato ad allargare la Nato, abbiamo pensato a piazzare i nostri missili e quella finestra che la Russia del dopo Gorbachev aveva aperto, abbiamo lasciato che si chiudesse e dall'interno tutti questi veleni sono riemersi da una lunga storia. Questo è soltanto un esempio, ma ce ne possono essere tanti altri. Guardi, gliene faccio un altro. Insomma, siamo rimasti tutti colpitissimi da quest'uomo che viveva in quel comprensorio vicino a Roma sul lago, tutte villette, lui quella specie di rustico, lui che va a dove sa che c'è la riunione del consorzio e spara e uccide. Ma è chiaro che è stata formulata la domanda. Uno che fa così è stato sopraffatto dalla sua solitudine che è diventata ostilità verso gli altri, ossessione contro gli altri. Quelli del consorzio forse hanno provato, ma è legittimo porsi la domanda. Si è provato abbastanza ad evitare che quest'uomo, caduto in miseria, morto il figlio, eccetera, diventasse preda del male. Lo so, sto parlando come parlano i cappellani delle carceri, dei loro carcerati e dicono, vedete, chiuderli dentro e buttare la chiave serve solo a moltiplicare il male che questi hanno dentro. Mi rendo conto, è un punto di vista, ma davanti a quello che sta accadendo, secondo me, è un punto di vista importante. Grazie. E di fronte a episodi come il Qatargate, che cosa che cosa si può dire allora? Di fronte a valigiate di soldi in contanti, perché gli arabi preferiscono i contanti, sanno bene che effetto fa vedere una valigia più che un assegno, ecco, piena di soldi. Di fronte, toccano anche il mondo del calcio, entrano nello sport, oggi non c'è più niente che possa essere considerato al di fuori del business, in qualunque modo. Ma come possiamo poi proporsi anche come alternativa, come futuro? Che cosa insegniamo ai nostri ragazzi, dei quali poi io vorrò dire qualcosa? Insomma, lei e io soldi dal Qatar non ne abbiamo presi, quindi può darsi che non siamo capaci di insegnare nulla, ma non per quella ragione. Questi che hanno preso i soldi dal Qatar sono delle figure, direi più ignobili di quelli che l'hanno presi nel calcio, vede, perché il calcio purtroppo è diventato anche un business e nel business c'è un po' di tutto, ma quelli erano stati eletti. Cioè, in una democrazia è la cosa più sacra che esista questa qua. E leggere si è inca a scegliere. Stai lì per rappresentare e fare gli interessi di quelli che ti hanno eletto. Ora, che tu ignori totalmente il tuo interesse, forse lo si può chiedere solo a San Francesco e a Sant'Antonio, quindi uno che cerca anche di prendere i soldi per fare gli interessi di un ricchissimo paese straniero, ma poi quale interesse? Mentendo sulla verità delle cose per dare di quel paese un'immagine diversa da quella che è giusto dare. Ecco, questo se vivesse oggi padre Dante lo ficcherebbe nel girone più basso di tutti quelli che ha a disposizione. Perché vede oggi il cittadino, che poi è anche elettore, sta dietro a tutto, vede, giudica la politica anche per il fatto di scegliere un Presidente della Repubblica, magari tra Mattarella, Amato, Casini e ci metta lei altri che vuole, eccetera. E dice, ma è possibile che le istituzioni, ma quando succedono queste cose, già le istituzioni che sono sottotiro fa... ma cosa deve pensare il cittadino normale? È verissimo, cioè qui il moltiplicatore del male è esponenziale, si direbbe, insomma, no, perché, insomma, io me lo ricordo ancora quando il male della corruzione politica entrò nel partito socialista di cui io ero esponente. Eravamo tutti ladri nell'opinione comune, socialista uguale ladro. E quelli che non lo erano risentivano più o ancora di chiunque altro di un giudizio del genere. Ma è purtroppo inevitabile, le cose si generalizzano. I magistrati sono oltre 8 mila persone, ma che sono mica tutti come Palamara. Non lo sono affatto. Assolutamente, io sono convintissimo. E c'è tantissima gente che sgobba, che lavora, che cerca di fare del suo meglio. Io poi nell'esperienza della Corte ne ho conosciuti tanti, veramente sono... e però se succede qualche episodio, è Bartali e dice, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Quindi la gente si distacca da tutto. Ora, che si distacchi dal Consiglio Superiore della Magistratura è già male, ma che si distacchi da coloro che è chiamata ad eleggere, da quelli che sono l'espressione prima della democrazia, questo è gravissimo. Per questo Dante quelli li deve mandare, perché è un attentato alla democrazia che equivale a quello di un attentato a mano armata al Parlamento. Anzi, questo fa meno male, perché alla fin fine se uno riesce a isolarlo nell'opinione pubblica, questo si isola. Invece quell'altro no, colpisce tutti. Senta, voglio un riferimento prima di parlare della Maremma ai giovani. C'è la generazione Z, ci sono i boomer naturalmente come noi, ci sono i millennials oggi e c'è la generazione post tecnologica addirittura che comincia nel 2005 come anno di nascita, che praticamente è nata con il telefonino in mano, è nata così. Quindi mi viene in mente di vedere sempre questi ragazzi con il telefonino in mano, ma loro sono nati così, per loro è normale. Voglio dire, noi con la nostra educazione, quella ricevuta, pensando che i nostri valori siano quelli giusti, critichiamo e non sappiamo, anzi ci sentiamo anche offesi a volte, perché ma te guarda io sto parlando a loro e loro spippolano, no? Ma che soddisfazione c'è per me per parlare. Ma loro sono nati così, è il loro ambiente, è il loro modo di esprimersi, di informarsi. Io lo sa che anche come professore, come ex professore, insomma ho fatto tante volte questa riflessione, perché sono partito con un giudizio critico e poi ho detto ma che c'entra? Loro sono così, sono così, non conoscono un mondo diverso da quello che li ha ospitati per la prima. Quindi ma chi si deve muovere per far capire che è necessario un equilibrio, che va tutto bene, ma che bisogna anche saper parlare, bisogna leggere, non andare a vedere Wikipedia soltanto o la risposta su internet. Bisogna naturalmente sollecitare noi stessi per migliorare, per crescere e questo non si fa con il telefonino in mano soltanto. È la scuola forse che deve cambiare? Ora si pensa che il cellulare non si vuole più a scuola. Il ministro dice non più il cellulare a scuola. Un altro dice no, il cellulare serve se usato naturalmente in un certo modo. Anche qui sa appunto c'è sempre una misura e bisogna trovare un equilibrio. Ma lei ha fatto una bellissima filippica ora e io l'ho trovata molto giusta perché il suo punto di partenza e qui c'è qualcosa che non va. Attenti però, non potete dire aboliamo il telefonino perché loro sono nati in una civiltà che è così, che vive attraverso il telefonino. Ne traggono tanti vantaggi oltre che correre gravissimi rischi di cui pian piano sono sempre più consapevoli perché io comincio a pensare che le ragazzine che postano le proprie fotografie nude sono sempre di meno perché hanno capito che c'è il rischio poi della diffusione del ricatto. Hanno visto loro compagne coetane arrivare al suicidio per la vergogna. Quindi teniamo anche conto che certi fenomeni negativi che lì si scatenano poi fanno crescere a spese purtroppo di qualcuno l'antidoto, a spese purtroppo di qualcuno l'antidoto anche se ci saranno sempre i piccoli e grandi mascalzoni che profiteranno di ogni circostanza. Ma il punto centrale che lei ha detto è chi deve fare in modo che si ricordino che esiste guerra e pace, che sul display di un telefonino non potrà mai essere letta. E allora vivranno questi ragazzi e queste ragazze in un mondo che non ha più il romanzo, non ha più la letteratura, non ha più la saggistica, non ha più tutto quello che apre le menti. Non è necessariamente così. Io cito due cose che ho davanti e anche lei di sicuro le ha davanti. Ci sono su TikTok dei 14-15 anni i quali fanno rapide recensioni di libri per la loro età e così li segnalano alle migliaia di frequentatori di TikTok. Questo è meraviglioso perché questo è questa straordinaria qualità che noi abbiamo, la creatività, guardi, si fanno tante bischerate grazie alla creatività umana e tuttavia è quello che nessun robot, nessuna intelligenza artificiale riuscirà mai ad avere la creatività. Allora questi ragazzi anche per crearsi hanno inventato questo. Ci sono dei portali molto frequentati, il portale Treccani è uno di questi, nei quali si parla dei libri, si sollecita a leggerli. È un dato di fatto che se lei andava due settimane fa alla nuvola, questo edificio all'Eur a Roma nel quale si fanno le fiere dei libri, era affollatissimo di libri e di gente che li guardava. Insomma, da questo punto di vista non siamo alla fine del mondo, siamo un mondo che loro stessi ragazzi stanno facendo cambiare. La sua parola bischerata mi ha riportato alla nostra maremmanità e io starei a parlare con lei per ore perché è sempre un arricchimento parlare con lei, però voglio parlare un po' della nostra maremma perché questo è fondamentale. Ma quasi quasi lo sa che comincio dall'autostrada perché ho visto che questi parlamentari da Marco Simiani a Fabrizio Rossi che sono tutti nella commissione dove si parla anche di infrastrutture stanno ritirando fuori. Ancora, quello che ho detto io, l'omino con la carretta, non l'ho visto, perlomeno l'omino con la carretta che dia un segnale che il cantiere è stato aperto. Però, ecco, se ne riparla, Gianni ha scritto proprio ieri a Salvini dicendo che il completamento del corridoio tirrenico è necessario, è indispensabile. Si sta andando verso la soluzione sulla Due Mari, con il raddoppio della Galleria, la Eger, insomma, qualche decennio, insomma, che facciamo? Perdoniamo, dimentichiamo tutto perché oggi siamo arrivati vicini, vicini, ma qui io la vedo ancora dura, questa per quanto riguarda il corridoio tirrenico. Se ne sentono di tutte, di cotte, di crude, di belle e di brutte. Io non so proprio più che dire. Sì, hai ragione, perché ne abbiamo parlato. Avevamo dato anche delle soluzioni. Quando facciamo su e giù, quelli come me che si spostano di continuo tra qui e Roma, vedere che è tutta autostrada su e poi giù, è che noi qui ci abbiamo una superstrada che a volte non c'ha neanche il divisore e poi ci abbiamo quei lunghi colli di bottiglia per cui siamo ancora a due corsie qui, eccetera. Sembra possibile. Uno dice almeno che l'ANAS faccia il raddoppio delle corsie, tolga questi benedetti in croce a raso, ci dia una elementare sicurezza. Poi, ora ho capito che prima faranno il ponte di Messina e poi faranno il resto, quando sarà finito il ponte di Messina... Forse ce l'avremo anche noi, dobbiamo sperare, aspettiamo il ponte di Messina. Possiamo sperare che dopo il ponte di Messina ce la facciano, ma insomma essere dimenticati da questo punto di vista totalmente appunto, perché è una volta che si era capito che l'autostrada fatta sull'Aurelia qui incontrava troppe resistenze, secondo me anche giuste, e che quindi bisognava trovare un disegno come si è trovato intorno a Grosseto e in ogni altra parte della costa tirrenica, beh, non è che ci voglia tanto. Presidente, non facciamo ironia noi, vero? Noi diciamo tutto questo perché ne va dello sviluppo economico. Ma scherziamo. Naturalmente ne va del nostro futuro. Ma come si fa a continuare appunto in una situazione nella quale ci rendiamo conto che da un lato c'è un'esplosione di turismo che sta diventando anche troppo il nostro futuro, perché io ritengo che il futuro della Maremma stia nell'equilibrio tra le produzioni agricole e anche di industria avanzata di cui la Maremma è capace. È quello che pensiamo anche come TV9, con il nostro progetto. Eh sì, perché noi rischiamo qua che prevalga esclusivamente il turismo, insomma, e lo stesso agriturismo con questo ritmo diventa più turismo che agri, nel senso che è semplicemente in campagna ma poi non ha quella produzione che qui abbiamo sempre avuto in effetti e che continuiamo ad avere. non solo turismo, ma c'è il turismo. Ci sono i traffici che passano, ma il grande traffico ormai è attraverso il mare. Il mare per portare poi i prodotti nelle varie città ha bisogno, su via della gomma, non basta soltanto il treno, lo sappiamo benissimo che non basta. Certo. E allora... E anche il treno poi noi siamo messi... E noi col treno poi non ne parliamo. Non diciamo, non ne parliamo. Non ne parliamo, appunto. E quindi, ecco, sì, c'è da sperare veramente che questo ponte di Messina lo facciano presto, così dopo... Perché noi abbiamo le nostre infrastrutture. Dopo penseranno anche a noi, insomma. Perché lei, io parlo sempre volentieri, perché a lei mi piace, perché lei dice sempre che la Maremma ha queste grandi potenzialità. La Maremma è una terra fortunata sotto questo aspetto. Ma certo che lo è. Però la fortuna, le idee, naturalmente per portarle avanti ci vuole la volontà, ci vogliono le gambe. Ma certo, ma ci vogliono le gambe e ci vogliono le infrastrutture. Parliamoci chiaro, se approfondiamo, noi qui abbiamo una struttura fatta per punti che stanno su colline, quasi montagne, e viviamo di strade provinciali che oggi nessuno più provvede a sistemare, perché la provincia, povera creatura, è lì che agonizza da quattro anni. E quindi come mezzi di comunicazione, strade e mezzi di comunicazione, noi siamo messi veramente male, insomma. Allora, l'augurio a chi è messo male? Facciamolo finale. L'augurio è che tutto sommato, un po' perché, questo va detto perché io sono qui da tanti anni, me ne rendo conto, un po' perché il Maremmano ha avuto tanti guai in passato che è diventato un po' neghittoso, c'ha degli ammortizzatori che gli permettono di resistere, assorbire, quindi è abituato a superare le fasi nere. Però negli ultimi decenni ha anche dimostrato di saper mettere su questa attitudine passiva a subire anche il reagire, il fare. Ecco, io confido che questa attitudine in un mondo che oggi è pronto a recepire quello che si fa, la Maremma è una di quelle aree d'Italia che dal telefonino ci guadagna perché se si mette in rete e ci si mette viene conosciuta, qui arriva gente che non c'era mai venuta. Io per venire qua ho dovuto passarci 90 volte scendendo da Lucca, da Pisa e poi la curiosità di venire a vedere qua questo posto bellissimo mi ci ha portato. È rarissimo che oggi accada così. Oggi è la rete che porta in Maremma. Per bacco abbiamo anche questa innovazione e quindi bisogna oltre che saper resistere, saper esistere al meglio. Auguriamoci che i Maremmani di domani lo facciano. Io la ringrazio, la ringrazio tanto per questa intervista. I suoi auguri sono graditissimi sicuramente a tutta la comunità maremmana. La ringrazio. Auguro anche lei buon lavoro. Non so come prenda questo augurio lei perché è sempre super impegnato. so che tra poco andrà in Portogallo perché c'è un incontro molto importante. Però vede, poteva stare una settimana più qui e deve andare in Portogallo. Ecco, perché dire buon lavoro. Però lei non può rimanere isolato. Ecco, quindi è giustamente, deve trasferire agli altri il suo know-how, deve trasferire agli altri la sua esperienza. Perché io credo che questo sia soprattutto il compito dei politici come lei, di persone, di studiosi, di professori, di tecnici, di statisti, di persone che hanno idee chiare perché hanno vissuto tutte le situazioni, dalle migliori forse alle peggiori, da quelle realizzabili e possibili da affrontare a quelle impossibili perché non tutto naturalmente si può risolvere con le parole o con la volontà e occorrono altre cose. La ringrazio veramente di cuore e ringrazio voi gentili telespettatori per averci seguito. Buonasera.